Le auto transitano senza problemi, i motorini vanno anche contro senso, i pedoni passeggiano come se nulla fosse. Ancora incerto il destino di via Mattia Coppola, noto come Vico Miciano, chiuso da quasi tre anni a causa di un crollo di un vecchio palazzo. Le finestre e i balconi sono oramai inaccessibili, tutto è stato murato, ma di mettere in sicurezza lo stabile per adesso non se ne parla. Il tutto a scapito dei residenti della zona e di tutti i cittadini che utilizzano quella strada come via d'uscita dagli ingurghi cittadini. Ma non solo, qualcuno ha rimosso abusivamente le transenne con sommo pericolo per chiunque vi passi. Di chi sarà la responsabilità se avverrà un altro crollo? Chi ha rimosso le sbarre? Cosa accadrà se ci sarà la caduta di calcinacci provocata dalle vibrazioni delle auto di passaggio? Il palazzo vetusto non si sa come è ancora in piedi, ma il pericolo pare sia ancora vivo e presente. Ad oggi lo si può quasi definire uno scandalo dovuto all'assismo e alla poca efficienza.